Cantiere all'opera Ponte Buriano per la seconda fase del restauro anche in vista della chiusura al traffico del ponte dal prossimo 16 di luglio. I tecnici della provincia insieme al funzionario responsabile della soprintendenza hanno individuato gli interventi prioritari per gestire il ripristino con una tempistica più veloce. Se non ci saranno particolari problematiche il ponte che si trova sulla strada provinciale 1 dei Sette Ponti sarà riaperto tra fine agosto e primi giorni di settembre. Nel frattempo si sono svolte le operazioni di graduale svaso della diga della penna per consentire l'allestimento del cantiere a Ponte Buriano in modo da raggiungere la quota necessaria in alveo per allestire i ponteggi. Operazione in corso e che si concluderà a metà mese. Come aveva ricordato il presidente della provincia Roberto Vasai se non fossimo intervenuti subito c'era il rischio di dover chiudere Ponte Buriano da un momento all'altro e non potevamo certo permetterci di perdere un'opera di un valore inestimabile. Limiteremo al massimo i disagi e abbiamo piena considerazione di tutta l'utenza che transita in questa zona e sarà costretta a una viabilità alternativa. Nel rispetto dei tempi molto dipenderà dalle condizioni climatiche.